Il tempo, il tempo, guarda caso, è il primo punto da cui sono partito, ho detto c'è un asse X con il tempo e lui dice, ah, il tempo. Il tempo, questo libro, che è uno dei libri più interessanti che possiamo trovare in realtà è un insieme di testi non sul valore finanziario del tempo, ma sulla brevità della vita e chi scrive queste cose è un certo Lucio Anneo Seneca, il quale dice delle cose, secondo me, interessanti. Abbiamo voglia di leggere qualche cosa, visto che è uscito? Per esempio, ho preso una pagina a caso, dice guardate, questo non è un testo di economia, però parla di economia, anche questo. Ho messo i libri lì perché poi la gente mi chiede ma dove sono i libri dell'economia umanistica? Non ci sono, non ci sono. Bisogna andarli a cercare e sapere che cosa cercare, come? A caso.